Buonasera e benvenuti alla Stella Azzurra dove l'ottava giornata di Serie A vive il match clou e il derby con il pizza boom Trastevere che sfida la Roma Calcio a otto. Fallo laterale per la Roma ha servito Klaus Seferi che porta la palla prova il tiro della tre quarti ed è deviato per l'uno a zero della Roma Calcio a otto vantaggio immediato sul sinistro radente di Seferi. Cioccari porta palla la cede a Rossi che gliela rende c'è Cioccari in possesso tiro di destro fuori non di molto Tiberi prova a salire per il pizza boom la palla giocata per Stornelli che prova col destro che s'abbassa sulla traversa Giannini protegge palla la cede a Cioccari va da Russo Russo il passaggio buono per Stornelli dentro Stornelli dalla non sbaglia quasi mai il pareggio del pizza boom tra Stevere siamo uno a uno il sinistro di Stornelli Giannini porta palla poco il tacco delizioso per Russo che apre sulla sinistra al lato corto dell'area di rigore parte un cross la palla passa c'è Rossi Rossi se lo divora incredibile calcio d'angolo per la Roma Calcio a otto battuto a ritroso Ciccolini tenta la coordinazione Caterini strepitoso poi la palla rimane lì c'è un altro tiro deviato dal pizza boom che si salva Russo in possesso il cambio di gioco a cercare Rossi che controlla bene poi protegge col destro passa dal lato corto il cross attenzione Russo 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 la piazza all'incrocio dei pali il numero sei per il vantaggio del pizza boom inizia l'azione e poi la va a chiudere Russo Ciccolini porta palla la dà in verticale a Bucri che si può girare parte il destro raso terra Caterini la respinge poi di testa Caterini mostruoso sul suo palo a Roma Calcio otto all'impostazione schiumante di rabbia per lo svantaggio il retro passaggio attenzione è sbagliato c'è Rossi che entra in possesso di palla il sinistro Rossi da fermo fa tre a uno per il pizza boom Trastevere la piazza Seferi in protezione poi allarga sulla sinistra per Paoli che ha spazio per avanzare prova col destro e stavolta beffa Caterini che derby due a tre la Roma si rifà subito sotto Tiberi avanza nel cerchio centrale del campo prova col destro deviato la palla rimane lì per Stornelli grande rovesciata c'è Rossi che l'appoggia Tiberi la gran parata di Belardinelli e poi Rossi troppo facile per Daniele Rossi 4 a 2 l'appoggia a porta vuota col sinistro e il pizza boom è avanti di due reti è finita il triplice fischio dell'arbitro decreta la vittoria per 4 a 2 del pizza boom Trastevere la differenza l'hanno fatta la classe degli interpreti maglia giallorossa e le grandi parate di Caterini tre punti fondamentali per la classifica del pizza boom con loro sempre una partita difficile perché i ritmi sono altissimi parecchi errori poi sicuramente parte tutti sono bravissimi però c'hanno Klaus Seferi che insomma crea la superiorità e quindi sono pericolosi in ogni attimo noi secondo me abbiamo fatto una grande partita finalmente concentrati abbiamo fatto gestione palla e finalmente poi insomma sono riuscito a fare questi due gol che dedico sicuramente al presidente che oggi non c'era stava qualche linea di febbre sono due uno a lui e una la mia fidanzata Alessia pesante perché poi nel finale diciamo che loro l'hanno chiusa sul 4 a 2 perché noi stavamo logicamente tutti avanti per cercare il pareggio sono stati forse forse qualche episodio in più loro nel gestire meglio alcune palloni soprattutto nel passaggio finale hanno permesso poi di arrivare alla vittoria finale